ciao bimbi benvenuti nel nostro spazio 10 minuti al libro aperto anche se siamo in vacanza ho una bellissima notizia da darvi l'anno prossimo sarà con noi un bimbo nuovo un bimbo che si chiama leonardo e a lui voglio dedicare la lettura di questa bellissima storia ruby è la storia di quando incontrò una preoccupazione ok a ruby piaceva essere ruby amava volare in alto ed esplorare posti selvaggi e lontani qualche volta arrivava persino nella zona più remota del giardino ruby era davvero felice finché un giorno scoprì una preoccupazione non era molto grande anzi era così piccola che all'inizio ruby non se n'era quasi accorta ma poi la preoccupazione aveva iniziato a crescere ogni giorno era diventata sempre più grande non la lasciava mai sola era lì a fare colazione a fissarla da dietro la scatola dei cereali ed era ancora lì la sera mentre si lavava i denti la cosa strana era che nessun altro riusciva a vedere la preoccupazione di ruby neanche la maestra così ruby faceva finta che fosse invisibile anche per lei provava ad andare avanti come se fosse stato tutto normale ma non lo era la preoccupazione era sempre lì ad impedirle di fare quello che prima amava ruby si chiedeva quando se ne sarebbe andata via e se non l'avesse mai lasciata e fosse e se fosse rimasta con lei per sempre ruby non se ne rendeva conto ma stava facendo la cosa peggiore che puoi fare quando hai una preoccupazione si stava preoccupando così la preoccupazione diventò enorme entrava a malapena in cucina riempiva da sola mezzo autobus e al cinema occupava un'intera fila ruby non riusciva a pensare a niente altro che alla sua preoccupazione e le sembrava che non sarebbe mai stata felice poi un giorno accadde qualcosa di sorprendente nel parco ruby vide un bambino seduto da solo sembrava che si sentisse proprio come lei triste e poi notò qualcos'altro qualcosa che gli ronzava intorno era forse una preoccupazione lo era ruby si accorse che nonostante tutto non era l'unica persona con una preoccupazione ognuno aveva una preoccupazione così decise di chiedere al bambino a cosa stesse pensando e mentre lui raccontava avvenne qualcosa di incredibile la sua preoccupazione cominciò a rimpicciolirsi allora ruby fece la cosa migliore che puoi fare quando hai una preoccupazione iniziò a parlarne e più parlava più la preoccupazione di ruby diventava piccola finché quasi non si vide più poco dopo entrambe le preoccupazioni erano scomparse finché ruby si sentiva di nuovo ruby certo non fu l'ultima volta che ruby ebbe una preoccupazione tutti ne hanno di tanto in tanto ma adesso aveva capito come liberarsene e quando una preoccupazione arrivava non rimaneva mai a lungo ho letto questa storia per leonardo perché voglio che lui non si preoccupi del nuovo gruppo classe che incontrerà perché è un gruppo classe fatto di bambini fantastici curiosi simpatici teneri allegri esattamente come lui ciao leonardo un bacio e spero davvero di vederti e di incontrarti presto